Di sciarifo, di quelle categorie, infatti ha dimostrazione che il derby la corse in 24 e il derby non si corre in 24 Lui ha vinto col 23? Ha vinto col 23, addirittura ero in quarta fila perché allora la macchina faceva non 400 metri ma 200 metri e si partiva in 7, perciò ero in quarta fila Mi è andata bene perché intanto che la macchina muoveva ce ne erano ancora 5 e 6 che giravano dietro Io sono andato verso la macchina, non verso il dietro